Noi abbiamo in atto una grande operazione ecologica ambientale insieme all'atto, insieme a Marche Multisivizi, insieme alla provincia nella programmazione. È previsto il completamento prima dell'estate del raddoppio del depuratore di Montecchio con tutti i collettori per la bonifica del fiume Apsa e del Foglia. È previsto nel contratto di fiume un altro depuratore in quel di Ischieti, quindi depuratore di Ischieti, di Montecchio di Vallefoglia e di Borgeria, tre depuratori per depurare tutta l'asta fluviale. Consideriamo pure che questa è una vallata tutta industriale, per fortuna mantiene ancora una buona presenza delle aziende agricole, quindi anche l'agroalimentare, e quindi bisogna puntare molto sulla depurazione, sulla qualità delle acque, sul controllo rigoroso da parte di Marche Multisivizi, degli organi della Polizia, dello Stato, della Polizia Locale, perché i fiumi possono essere una risorsa e non un problema. Il Comune sta puntando molto sull'abbellimento del territorio del fiume Foglia, anche appunto non solo col contratto di fiume, ma anche con il progetto della ciclovia. Il Comune sta puntando molto sulla mobilità sostenibile, abbiamo giovedì una riunione il pomeriggio proprio sulla riorganizzazione del sistema dei trasporti con AMI e cercheremo appunto di ridurre l'inquinamento atmosferico, di ridurre gli incidenti e di puntare molto sull'ambiente, sulla qualità, sulla sostenibilità e su una mobilità sempre più sostenibile e la depurazione dell'asta fluviale, dell'asta dell'apse del Foglia sono fondamentali per la qualità dello sviluppo di questo territorio.